E' lo sloveno Grega Bole della Nippo Vini Fantini il vincitore dell'edizione 2016 del Gran Premio Costa degli Etruschi. Corsa organizzata dal GS Emilia con la collaborazione dell'ASD Costa degli Etruschi e l'apporto dei comuni di Castagneto Carducci e San Vincenzo. Lo sloveno al tredicesimo centro in carriera ha superato in uno sprint a ranghi ristretti la concorrenza di Francesco Gavazzi e Diego Lissi che correva sulle strade di casa, togliendo così ai due italiani la gioia di mettere la propria firma nella corsa che apre il calendario professionistico tricolore su strada. Bella vittoria, sono molto contento. Già prima di gara sapevo che oggi sto bene e che può fare il risultato se fa tutto giusto quindi sono molto contento anche tutti i miei compagni devo dire grazie perché ha fatto un grande lavoro per me e quindi è vittoria arrivata. Sei stato protagonista anche nel tratto in salita quindi non solo una bella volata anche una finale di corsa da protagonista. Sì, sono stato anche forte in salita anche i giorni primi di gara sentivo molto bene in salita quindi creduto che vado forte per quello non ho fatto nessuna paura a salita quindi stavo con primi.